Ciao Nicola, buongiorno. Buongiorno, ciao Elena. Buongiorno, abbiamo con noi oggi Nicola Rizzo che è coordinatore della Customer Experience di Audi e diciamo che io e Nicola ci frequentiamo da alcuni anni, direi sei o sette e il nostro motivo d'incontro è lavorare sul training della rete dei dealer Audi. Cominciamo un po' a introdurre quest'ora insieme provando a portare l'orologio indietro nel tempo non molto indietro ma diciamo che siamo al 10 di marzo. Il 10 di marzo è un po' una data fatidica per tutti perché è il momento nel quale ci siamo resi conto che la terra ci trammava sotto i piedi e il mondo stava cambiando in modo radicale. A quel punto che cosa succede Nicola nella formazione? Sì, il 10 di marzo per me è stato l'undici mattina, il risveglio a casa dove sono anche oggi sapendo che non sapevamo quando saremmo tornati a lavorare e la prima sensazione è stata un fortissimo mal di testa perché avevamo e avevo chiaro che cosa ci aspettava in termini di formazione. Avevamo avviato da poche settimane i percorsi formativi con i calendari eccetera, improvvisamente ovviamente tutto bloccato con alcuni problemi da gestire perché in quest'anno abbiamo lanciato, stiamo lanciando la nuova A3 che insomma per chi mastica un po' del nostro settore sa quanto sia importante come modello per noi addirittura a maggio avremmo dovuto andare a Monaco presso il costruttore a fare tutta l'attività formativa quindi l'idea era di muovere 600 persone per andare a vedere il nuovo modello, provarlo, istruirsi e quant'altro e poi c'era il grande tema dell'elettrico che in quest'anno per noi è uno dei punti focali e quindi immaginare che tutta l'attività formativa prevista almeno su questi ma poi su molti altri temi avrebbe dovuto completamente bloccarsi ha reso i primi giorni di assoluto mal di testa. In realtà poi abbiamo reagito con due idee in mente. La prima condivisa subito con tutti i trainer e tu ovviamente sei stata tra i primissimi su questo tema a darci disponibilità è stata quella di non abbandonare la rete. I ragazzi come li chiamo io poi nel termine ragazzi si va dal direttore generale fino all'ultimo dei venditori e quindi una popolazione molto variegata e vasta ma io li chiamo ragazzi. I ragazzi erano a casa come noi tutti persone con le quali giornalmente viviamo l'attività formativa durante tutto l'anno e ormai da anni e la prima idea è stata di provare a far loro compagnia in qualche modo ma veramente una questione più personale che professionale se vuoi e quindi con tutti i trainer abbiamo detto proviamo ad immaginarci qualcosa. Sì però nel farlo diamo anche un contenuto diamo un valore e così siamo riusciti in pochi giorni dall'11 di marzo al 25 di marzo prima data a varare un calendario di attività formative digitali e a distanza un calendario molto denso con tantissimi argomenti non necessariamente legati al prodotto al processo di vendita ma anche aiutando ad allargare un po' gli orizzonti formativi e abbiamo impegnato i nostri ragazzi per 37 giorni con un calendario talmente fitto che abbiamo addirittura dovuto ad un certo punto limitare le proposte che arrivavano da voi trainer e quindi è stata un'esperienza personale e professionale impegnativa però devo dire meravigliosa perché ci ha permesso di fare quello che volevamo fare compagnia alle persone della nostra rete ma anche farlo dando provando a dare un valore un'utilità a quei giorni. Ecco ma questa formazione diciamo just in time che tipo di contenuti che tipo di quali sono i focus che abbiamo messo insieme nel nostro smart training appunto citiamolo. Citiamolo anche perché tu sei stata una delle fautrici del nome quindi è stato bellissimo anche trovare questo nome così simpatico fin dall'inizio abbiamo parlato di prodotto ovviamente abbiamo parlato di tecnologie delle nostre vetture abbiamo sfruttato l'occasione per fare un bel ripasso di tutti per esempio gli elementi di connettività delle nostre vetture o di tutti gli elementi più tecnologici. È stata un'occasione anche per nuovi assunti perché eravamo appunto nel mese di marzo e con l'inizio dell'anno avevamo avuto diverse assunzioni nuovi venditori e quindi è stata per loro l'occasione di cominciare a conoscere il prodotto. Ma poi come dicevo siamo entrati anche in tematiche se vuoi che sembrano lontane dal nostro vissuto quotidiano ma che in realtà hanno aiutato i ragazzi a cominciare a fare tutta una serie di ragionamenti e a prepararsi poi per la ripresa. Cito su tutte le neuroscienze per esempio. Lo dico per primo perché sono stati i tuoi i tuoi treni, il tuo team. Parlare ad un venditore di come usare il cervello nella trattativa di vendita è stato incredibilmente piacevole per noi ma soprattutto per loro. Beh ricordo un trainer, un partecipante che ha detto che la collega Serena aveva fatto sembrare il cervello la cappella Sistina. Quello l'ho trovato una cosa veramente bella. Cioè gli avevano affascinati quanto la visita alla cappella Sistina. Quello è un apprezzamento forse superiore rispetto forse il più grande che abbiamo mai avuto in tutta la nostra carriera professionale. Sì sono d'accordo. È stato veramente molto apprezzato così come lo storytelling. Cominciare ad introdurre questo concetto di raccontare al cliente il prodotto. Il lusso. Ecco ci siamo presi il lusso di parlare di lusso. Noi che siamo premium abbiamo voluto provare a dare alla nostra rete un'idea di come si muovono i veri marchi del lusso. Qual è la cura che pongono nel presentare i prodotti. E non sto parlando solamente degli aspetti digitali che pure abbiamo curato in quelle settimane con i nostri digital manager. Ma anche come ispirare interesse o confermare interesse nel cliente che si avvicina al mercato del lusso. Noi non siamo il mercato del lusso, siamo adiacenti. Però anche cominciare a ragionare con quelle dinamiche è stato veramente come dicevo un'occasione per i nostri ragazzi per fare un bel refresh al cervello e non limitarsi a guardare sempre il nostro piccolo mondo che è quello dell'automotive ma anche allargarlo ad altre tematiche. E come dicevi tu hanno riscosso veramente molto successo e sono state veramente molto apprezzate con delle partecipazioni incredibili perché in quei 37 giorni noi abbiamo avuto oltre di fatto 6.000 partecipazioni. Quindi se conti che la nostra è una popolazione che viaggia tra le 6-700 persone, ciò vuol dire che ogni persona ha usufruito di 3, 4, 5 fino a 10, 12 attimative. Io ho in mente ragazzi che alle 9 della mattina erano seduti sul divano e li vedevo passare da un aula virtuale all'altra, da un argomento all'altro per tutta l'intera giornata. Quindi è stata veramente un'esperienza entusiasmante. Quali sono secondo te le lesson learn di questa fase? Quelle che poi ci possono condurre a immaginare una formazione differente di cui poi parleremo successivamente? Quali sono gli elementi chiave che ci siamo portati a casa come famiglia, mi permetto di inserirmi nella famiglia, come famiglia Audi Training? Sicuramente, lo dico subito perché così lo smarchiamo, l'elemento tecnologico. L'elemento tecnologico evidentemente è quello che va curato, non va dato per scontato dai problemi più banali della connessione delle cuffie e quant'altro a problemi più sofisticati, cioè come riuscire ad usare la tecnologia che abbiamo, che è molta ed è varia, ma come riusciamo ad usarla per fare della vera attività formativa. Abbiamo scoperto insieme in quei giorni che alcune piattaforme vanno benissimo per fare una riunione o per fare una live come stiamo facendo noi adesso, ma solo altre piattaforme vanno bene per provare a ricostruire delle meccaniche, chiamiamole di aula. Certo, non siamo più in un'aula analogica, siamo in un'aula virtuale, ma alcuni strumenti didattici servono al trainer. Poter lanciare un sondaggio, poter far esprimere un parere, poter creare dei sottogruppi, poter far fare dei piccoli lavori. Sono tutte meccaniche che servono per la didattica e rendono anche dinamico il corso. Quindi scegliere la piattaforma tecnologica e tutti gli strumenti a supporto è fondamentale. Poi abbiamo imparato, io credo, la politica dei piccoli passi. Cioè guardiamo la popolazione che abbiamo, pensiamo qual è lo strumento di formazione digitale a distanza che può andar bene e non puntiamo subito alla perfezione. Anche se ovviamente nella testa ce l'hai, però ti devi accontentare dei piccoli passi. Perché il cambiamento di approccio è radicale e se lo è stato per i trainer immaginiamoci come può essere stato per un partecipante. Completamente spaesato, veniva in aula, sapeva cosa doveva fare, come funzionava la giornata o le due giornate di corso, si ritrova improvvisamente a casa davanti a un computer con mille difficoltà, magari senza neanche poter vedere o farsi vedere perché non ha la webcam. E quindi occorre conoscere bene la propria popolazione e essere pazienti nell'adottare una politica dei piccoli passi. Io dicevo in quei giorni, se ti ricordi, ok costruiamo Gardaland, inteso come un parco dei divertimenti con tutte le meraviglie che può avere, ma oggi accontentiamoci di avere la piccola calci in culo, la giostrina della fiera di paese, no? Perché se li portiamo già sulle montagne russe di Gardaland rischiamo veramente di perderli. E questo abbiamo potuto farlo perché lo abbiamo imparato. E poi se vuoi come terza cosa che ti metterei sul tavolo è il cambiamento radicale dei docenti. Passare da una formazione d'aula ad una formazione digitale richiede veramente una preparazione completamente diversa da parte dei docenti, sia nel momento dell'erogazione vera e propria, ma credo ancora di più nel momento della progettazione. Magari su questo poi se vuoi ne riparliamo. Certo, no, sicuramente vale la pena perché poi immaginando di traghettare verso una prospettiva invece in cui le lesson learned diventano il nuovo modello di training, certamente alcuni di questi aspetti come, esatto, la considerazione rispetto al mezzo, la considerazione rispetto al percorso, no? Quindi anche la sua progettazione, quindi sono tanti elementi che sicuramente hanno come, come dire, necessità di essere ragionati proprio in prospettiva di sviluppo futuro, no? Perché poi se Audi è all'avanguardia della tecnica non provo a farlo in, a dirlo in tedesco perché potrei fare una figuraccia, è superiore a quella diciamo abituale, è certamente l'aspetto della, della, del guardare avanti, ma anche diciamo fare delle politiche solide è un elemento sicuramente centrale della marca, ma anche sicuramente in praxe, quindi sicuramente lo riprendiamo quando parliamo di, diciamo, di multi-channel, multi-channel training, no? Quindi parlavamo di lesson learned, dicevamo l'aspetto tecnologico sicuramente, l'aspetto della, dell'attenzione ai partecipanti e quindi della politica dei piccoli passi entrando in un mondo che è completamente diverso rispetto a quello dell'aula a cui siamo abituati, non solo i partecipanti ma anche i trainer, quindi c'è anche il tema dell'attenzione dei trainer a una serie di, di aspetti che certamente eh riprendiamo. C'è qualche altro elemento che ricordi con particolare eh diciamo eh memoria di quello che abbiamo vissuto in quel periodo? Ma direi la preoccupazione che per certi versi ancora ho, ma per certi versi abbiamo superato di capire se c'è l'efficacia del momento formativo. Quando sei in aula il trainer si rende immediatamente conto eh di chi è attento, di chi è distratto, di chi segue, di chi è perplesso, di chi ha domande anche se non le pone. Eh dell'esperienza digitale è molto più complicato. Nell'esperienza digitale probabilmente il concetto del gruppo d'aula, il patto d'aula inteso come un'entità a sé stante eh scricchiola e deve essere quasi più un patto ma soprattutto poi un'attenzione uno ad uno ed ed è veramente complicato perché alle volte non chiami in causa in un'aula fisica tutti i partecipanti perché nella dinamica del gruppo eh anche chi è meno attivo in qualche modo può essere coinvolto ma una in una dinamica digitale in cui ogni partecipante è solo nella sua stanza o e qui apro la parentesi in ufficio perché poi ci sono anche queste situazioni che vanno gestite quando non sei più in un momento dedicato ma sei nel tuo ufficio ti stacchi dal lavoro per fare un'attività formativa ma nel frattempo vedi il mondo che va avanti i clienti che escono eccetera e quindi è ancora più complicato per il partecipante. Ecco allora trovare il modo di coinvolgerlo coinvolgere ogni singolo partecipante per essere certi che stia seguendo i contenuti e che li possa fare in qualche modo fare propri credo che sia l'altra cosa che ci portiamo a casa in un primo momento vissuta come preoccupazione quasi irrisolvibile. Oggi stiamo andando sempre di più verso la consapevolezza che il nuovo paradigma è fiducia e responsabilità cioè dare estrema fiducia al partecipante che vuole conoscere nuove cose vuole migliorare le proprie conoscenze e quindi partecipa alle attività formative e quindi è responsabilità sua. Quindi io ti do fiducia ma mi aspetto che tu sia responsabile. Potresti benissimo disattivare la webcam e fare le parole crociate e pure figuri presente. Lo potevi fare anche in aula per certi versi no? Ma qui diventa assolutamente più possibile farlo e quindi occorre una fortissima responsabilità. Solo attraverso questi due elementi è possibile cominciare a pensare che un'attività formativa completamente digitalizzata come quella che stiamo affrontando in questi mesi possa comunque garantirci di ottenere gli effetti formativi attesi da ogni corso o percorso perché poi quella... Certo. Devo dire che collegata a questo io se ho due memorie molto forti ha sicuramente un'attenzione fortissima quindi quello che poteva essere il dubbio che tu dicevi è in realtà appunto ricordiamo che le partecipazioni le partecipazioni di cui parliamo sono partecipazioni totalmente volontarie quindi l'offerta della marca non è stata sostitutiva all'offerta diciamo di formazione obbligatoria chiamiamola contrattuale no? Quindi non è audio la concessoria che ti mandava a fare formazione ma è stata l'opportunità che Audi ha offerto appunto in un periodo molto difficile per le persone anche di stare vicini anche dal punto di vista di vista umano no? Quindi il tema che abbiamo trovato tantissima curiosità tantissime domande molta interazione e fra l'altro invito chiaramente chi è collegato in questo momento se è piacere di fare delle domande di farle non tanto a me magari ma soprattutto soprattutto a Nicola abbastanza un'occasione unica per interagire direttamente con lui quindi tema della curiosità e l'altra cosa che mi ha colpito molto è che siamo entrati nella casa degli italiani cioè siamo abituati noi a lavorare in situazioni più come dire istituzionali abbiamo visto bambini che spuntavano abbiamo visto i collegamenti fatti dallo sgabuzzino perché in ogni stanza c'era già un altro familiare collegato piuttosto che insomma collegamenti dai telefonini improbabili sui balconi o quant'altro perché magari la connessione wifi non era così efficace forse ci ha fatto anche un po' pensare di più che alla fine i nostri partecipanti non sono solo dei professionisti certamente lo teniamo presente ma anche che sono delle persone in carne e ossa che indubbiamente possono esprimere un valore personale anche nella loro curiosità nel loro interesse nello stimolo che forse è superiore rispetto a quello che forse l'aula proprio in quella condizione di come dire di imbrigliamento che l'aula quindi quel laboratorio ma che anche un po' acquario in qualche modo ci ha abituati negli anni quindi molti più liberi ma anche molto più come dire proattivi e come come forse le teorie organizzative più più contemporanee ci dicono no cioè quindi imbrigli di meno se le persone hanno le idee più chiare possono senz'altro esprimere meglio di sé no quindi partendo un po' da queste lesson learned che cosa stai cucinando nella nel backstage della della dell'audi via nel veronese no quindi che cosa sta succedendo a verona per quanto riguarda il multi channel training no quindi tu hai chiamato e dato un nome come come tutte le persone serie quando producono qualcosa chiamano anche hanno anche piacere di dargli un nome e e quindi multi channel training experience che cosa si porta dietro dell'esperienza da da questo smart training quindi diciamo che il multi channel training experience uccide o comunque valorizza forse l'esperienza che si è fatta nello smart training no quindi ci ha fatto venire delle idee delle e delle c'è dato delle indicazioni nuove rispetto a quello che abbiamo avuto fino ad oggi sulla formazione forse c'è anche un po smontato dei preconcetti che come tutte le persone di esperienza ci siamo costruiti vivendo in un mondo diverso no e quindi che cos'è che diciamo che cos'è questo nome multi channel training experience di audi sì direi che ha valorizzato il multi channel ha valorizzato lo smart training lo smart training è stato un pronti via facciamolo va fatto l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto bene ci è piaciuto è stato bellissimo per tutti ma dal primo maggio perché ci eravamo dati quella data che cosa facciamo dopo e quindi abbiamo cominciato a immaginare come avrebbero potuto essere i nostri percorsi formativi da quel momento in poi dico subito Elena che molto lavoro era già stato fatto perché altrimenti dire abbiamo fatto tutto quello che che sto per raccontare sembra quasi una follia un'utopia lo può essere ma la nostra forza la nostra fortuna è stata quella che molti pezzi erano già stati costruiti la piattaforma digitale sulla quale da anni carichiamo i contenuti l'utilizzo di aule virtuali non in maniera così massiva ma era già stato fatto le dirette instagram per esempio no da anni noi utilizziamo anche quel canale che è molto social molto giovane molto smart per lanciare delle piccole pillole formative quindi che cosa abbiamo fatto dopo lo smart training abbiamo cominciato a pensare al 2020 e poi al 21 per il 2020 ci siamo detti non si tornerà in aula fisica troppe complicazioni troppe incertezze troppi rischi per tutti e quindi come possiamo andare avanti con le attività formative attraverso la formazione digitale a distanza e quindi da smart training siamo passati al concetto di multichannel come dicevi tu che di fatto cerca di mettere insieme più pezzi possibili di ciò che si può oggi utilizzare per fare attività formativa ho citato gli oggetti digitali che siano dei tutorial dei web based training ma anche dei semplici video dei podcast audio posso citare le app per esempio a supporto di gamification o di quant'altro posso usare le dirette o posso usare il self study offline posso usare le dirette instagram cioè ho tutta una pletora di strumenti di oggetti digitali che se messi insieme possono comporre il puzzle ecco l'idea che mi piace quella che sono piccoli pezzi di un puzzle che puoi provare a comporre e lo puoi comporre anche in maniera diversa spesso ci parli di giro d'italia esatto il concetto del giro d'italia no del della del training a tappe del training a in cui diciamo non c'è quasi non c'è un certo c'è un traguardo da raggiungere che spesso nel caso di audi è una certificazione ruolo comunque l'acquisizione diciamo di un riconoscimento anche formale di quello che è l'acquisizione di competenze però questo forse l'idea che rende un po perché c'è un misto di pianura montagna non c'è la scalata del dei passi alpini ma poi ci sono anche lunghe galoppate come dire di pianura e quindi ci sono veramente una una pletora di esperienze molto molto differenti che hanno questa caratteristica di portare a un traguardo perché poi di fatto noi lavoriamo perché si incrementino le le competenze no quindi il lavoro che facciamo è sempre quello di avere ben chiaro qual è l'incremento di competenze che ci aspettiamo sia a livello di tipologia che a livello di proprio di crescita no quindi di di sviluppo sì hai detto bene questa metafora del giro d'italia è nata così un po per scherzo cioè dicendo ah ok ma se metti insieme tutti questi pezzi e prevedi un percorso una sorta di customer giorni della formazione tra una tappa e l'altra allora hai un obiettivo finale che è quello di trasferire quel contenuto migliorare quella competenza ma non ci arrivi in due giorni in aula come facevamo prima ci arrivi attraverso tanti piccoli pezzettini in modalità diverse ecco da qui la logica delle singole tappe che vanno vinte metaforicamente dal partecipante perché si porta a casa i contenuti e solamente sommando le singole vittorie di tappa o i piazzamenti di tappa si arriva poi a vincere il famoso giro d'italia che girando il tavolo dall'altra parte torniamo al tema di prima vuol dire anche progettare ogni singola tappa da parte del trainer del progettatore in maniera molto attenta perché se nei classici due giorni d'aula ai quali eravamo abituati o la singola giornata avevi un'agenda avevi un contenuto avevi un piano ma poi ti rendevi conto che se non funzionava lo adattavi quante notti si sono passate tra il giorno 1 il giorno 2 di un corso a riadattare la seconda giornata cambiare gli esercizi eccetera adesso quando hai 90 60 90 minuti di live per esempio o hai prodotto un oggetto digitale che è costato dei soldi e ti rendi conto dopo le prime uscite che non funziona qualche cosa cambiare molto più complicato cambiare in corsa perché c'è un tempo tra un utilizzo del partecipante l'utilizzo successivo e quindi si disperde si perde il filo filo logico e quindi la progettazione diventa fondamentale quindi ancora per tutte e due le parti per il partecipante per il docente le singole tappe sono assolutamente fondamentali tra queste tappe lo dico subito perché non vorrei essere frainteso la formazione fisica analogica face to face come vogliamo chiamarla fa ne fa parte ma se prima parlavamo di blended learning diciamo in questo caso lo voglio usare come faccio la formazione d'aula e poi ci attacco dei pezzi di tipo diverso a monte a valle il pre work o il classico follow up oggi invece con la multichannel a mio avviso abbiamo veramente un'infinità di strumenti che possiamo combinare e tra questi esiste anche la formazione d'aula che viene però preparata da un lungo percorso di self study di supporto con i trainer di condivisione anche con i partecipanti perché anche questo è molto interessante poi arrivo al momento d'aula quello che ho chiamato il momento epico nel quale finalmente incontro anche i miei colleghi fisicamente e faccio esperienza diventa un gigantesco laboratorio tutto quello che ho studiato adesso lo provo a mettere in pratica con voi con delle simulazioni del role play delle discussioni sotto la supervisione del trainer e poi quando me ne torno a casa il mio lavoro prosegue perché avrò capito che ci sono delle parti da rivedere da mettere a fuoco da cambiare e addirittura a questo punto se ho messo insieme tutto questo percorso dico io ma perché non ci aggiungo anche del coaching o del tutoring a seconda di quello che mi serve come dal mio punto di vista massima espressione del supporto che si può dare ad una persona che è in un cammino formativo ecco che allora ogni singolo corso dal mio punto di vista diventerà un mini percorso anche un semplicissimo corso cito il titolo della leadership così usiamo il più largo possibile no non sarà più un corso di due giornate nel quale impari un po di modelli fai un po di pratica un po di discussione ma anche un semplice corso del genere ha la possibilità oggi di diventare un percorso con il vantaggio Elena lo sai bene che anziché starmi chiusi in due giorni in aula a provare ad imparare tutto diluisco questa mia attività questo forse diciamo in termini di vantaggi di obiettivi se da un lato sicuramente questa progettazione ad oggetti chiamiamola così da molto simile allo sviluppo d'oggetti che si conosce nell'informatica no quindi preparo dei pezzetti che poi vado a riutilizzare integrare eccetera e dall'altra sicuramente da una diciamo richiede al partecipante che poi adesso parleremo un certo tipo di diciamo di accountability di responsabilità rispetto alla propria crescita professionale ma dall'altra anche certamente da parte diciamo strutturale perché in alcuni aspetti effettivamente come dicevi prima è molto difficile diciamo dobbiamo garantire un po quella flessibilità tipica dell'aula no quelle che noi chiamiamo consulenza d'aula o coaching d'aula no e perché poi ognuno arriva con i suoi con i suoi problemi anche con i suoi livelli di competenza no e dall'altra però anche essere molto strutturati perché indubbiamente una delle caratteristiche sicuramente del multi channel il fatto che devi un po prevedere tutto no e quindi insomma la la struttura deve avere una logica piuttosto piuttosto ferra e piuttosto piuttosto rigorosa no e quindi questo aspetto e quindi forse il docente anche cambia ruolo in qualche modo no l'animale d'aula non è più solo un animale d'aula sì sì assolutamente anzi sì e devo dirti che a pelle è stata la prima difficoltà che i trainer hanno affrontato no soprattutto quelli che più amano il contatto con l'aula il gioco con i partecipanti li ho visti immediatamente dopo le prime edizioni i live erano tristissimi dovevo chiamare dire dai forza dai che stanno andando bene gli mancano evidentemente al trainer manca però insomma le cose di fatto in qualche modo sono cambiate ed era probabilmente tempo che cambiassero solo sono solo successe drammaticamente in modo veloce e quindi il trainer deve sicuramente cambiare e io credo che il modello sarà quello di essere sempre meno l'esperto e sempre meno sì forse l'esperto può bastare come concetto per inquadrare quello che faceva il trainer prima no era un esperto era un coach oggi diventa essere contenuto e bravissima bravissima oggi diventa di più un facilitatore e è un racconta storia uno storyteller nel senso buono del termine cioè deve favorire il collegamento tra i diversi punti le famose tappe del percorso formativo creare continuamente questo legame mentre prima non aveva bisogno l'unico legame da creare era tra la metafora d'aula e la vita reale e l'altro tema è quello di essere facilitatore perché è evidente che rispetto alla sola formazione presenziale la formazione digitale mette frequentemente il partecipante in condizioni di dover studiare da solo e quindi il trainer deve in qualche modo diventare un coach di supporto o un facilitatore e quindi è un approccio completamente diverso si potrebbe sentire o si sente svuotato di quello che era il suo cavallo di battaglia prima andavi in aula e aspettavi che il trainer ti spiegasse le cose oggi va in aula invece il trainer ti chiede allora avresti già dovuto studiare e quindi adesso usiamo quello che hai imparato wow è un salto quantico per il partecipante l'hai detto bene tu ma anche per il trainer che si può sentire depauperato di quello che era la sua forza invece io credo che diventi meravigliosa ancora di più la professione del trainer già lo era diventa veramente meravigliosa no l'accompagnare il custodire durante un lungo percorso di molti mesi i partecipanti ecco anche in questo insomma l'esperienza che io che noi abbiamo fatto che posso raccontare e che funziona perché seppure senza tutto l'impalcatura digitale ma con il vecchio stile analogico questa logica di accompagnare i partecipanti per molte settimane per molti mesi è una logica che abbiamo seguito da anni in particolare con tutte le attività sul digital che proprio con con praxi abbiamo sviluppato e quindi possiamo dire che funziona il digitale addirittura la rende se vuoi la favorisce perché i nostri ragazzi che venivano in aula due volte una volta ogni due tre mesi avevano un certo tipo di relazione tra di loro e con il trainer meravigliosa ma se questa relazione diventa quasi settimanale grazie al fatto che la distanza lo favorisce beh ma allora abbiamo praterie da esplorare in ciò che si può fare in termini relazionali tra trainer e partecipante ma anche tra la comunità dei partecipanti molto interessanti ecco perché multichannel training experience perché diventa veramente un'esperienza ma è un'esperienza non solo formativa perché sto apprendendo ma anche un'esperienza di condivisione un'esperienza di raccontarsi le cose che si sono fatte a partire da quella nuova conoscenza che hanno funzionato che non hanno funzionato quindi veramente io credo che il digitale ci aiuta ci sta aiutando a dare veramente un senso di maggiore completezza e di efficacia ecco perché poi alla fine mi sono liberato dall'ansia dell'efficacia perché per chi è responsabile vuole fare questo percorso l'efficacia permettimi di dire è garantita perché a questo punto hai tutti gli strumenti possibili immaginabili no certo certamente ecco diciamo che avremo immagino che in questo momento ci stiano seguendo persone che abitualmente si occupano di formazione no quindi questa questa ora che abbiamo organizzato l'abbiamo organizzato per condividere soprattutto con la comunità degli HR di azienda delle persone si occupano di sviluppo di risorse umane di formazione dei trainer che lavorano diciamo quindi come come progettisti come docenti e tutte le varie figure che lavorano nell'ambito della formazione quali sono e quindi mi faccio mai piacere anche dal tuo punto di vista per l'esperienza che hai fatto con noi ricordiamo che ovviamente la quantità di trainer che lavora per Audi è significativa no quindi tu sicuramente hai incrociato molte diverse persone fra l'altro tu sei molto curiosa a tua volta quindi sei anche sempre molto spesso presente in quelle che sono le attività formative hai seguito tantissimo quindi sicuramente hai visto trainer che ti hanno convinto di più di meno magari non nella loro interezza ma per certe caratteristiche carne espresso allora secondo me potrebbe essere utile per chi poi deve immaginare di costruire un sistema di formazione come quello che stiamo rappresentando di avere qualche indicazione rispetto a quelle che sono le capacità che il trainer deve estremere se ci sono delle differenze rispetto a prima per poter dare effettivamente un contributo significativo a quello che è il miglioramento anche con strumenti che hanno effettivamente caratteristiche anche tecniche molto molto differenti una dall'altra sì questa è la domanda tosta perché è tutto in divenire no ovviamente io quello che dico in questo periodo continuamente che nessuno di noi io sicuramente non ho la scienza in mano anzi tutt'altro si va per tentoni si va per tentativi e bisogna avere credo la forza la capacità di dire anche questo tentativo non funziona riparto no e quindi anche immaginare quali sono le nuove conoscenze e competenze del trainer è tosta e credo che sarà un grandissimo lavoro da fare tutti insieme ecco perché ho accettato molto volentieri questa questa tua proposta di fare questa chiacchierata perché comunque permette di cominciare a ragionare di questi temi tra chi è addetto ai lavori ma non solo perché credo che veramente la condivisione possa essere d'aiuto in questo momento quello che io posso dire del trainer è sicuramente le competenze tecnologiche digitali eh siamo partiti dicendo che la tecnologia va curata beh il trainer la deve non solo curare ma la la deve sapere aiutare ehm utilizzare eh che cosa può fare non accontentarsi di quello che c'è non accontentarsi della piattaforma così come è vedere come è possibile usarla quale funzionalità avere come poter integrare altre cose a me viene in mente questo quando si fa formazione d'aula si prepara tutto per bene eh la carta i penarelli i colori gli adesivi post it tutto quello che vuoi poi vai in aula e cominci e se ti manca una cosa perché non ci avevi pensato non avevi pensato ai bicchieri di carta per fare un certo esercizio e non ce li hai i bicchieri di carta anche se in quel momento dici sarebbe la cosa migliore beh col digitale hai tutto perché col digitale da internet in giù hai tutto quello che ti può servire sfruttalo eh la seconda grande caratteristica che il trainer deve avere è verso i partecipanti eh ho visto forse prima in qualche commento qualcuno diceva è un community manager secondo me sì la dico male non vorrei che qualcuno si offendesse ma diventa veramente come la cara maestra di scuola che conosce tutti i suoi partecipanti ne conosce vizi e virtù e li accompagna perché li stai accompagnando in quel famoso gioco delle tappe per un lungo periodo allora sai che a Paolo gli devi dare quel messaggio che ad Elena devi stare attenta a quel feedback eh che ad Alice se gli dici la cosa in quel modo è molto più contenta eh che ad Andrea se fai fare quel tipo di esercizio ti rende di più un po' come faceva la maestra no? Il digitale ti permette perché non dimentichiamoci che la digitalizzazione è anche personalizzazione quello che offro a te Elena Caffarene è diverso da quello che offro a Nicola Rizzo e allora il trainer deve essere capace di diventare il gestore di questa comunità nel suo insieme favorendo tutti gli scambi delle persone all'interno della comunità ma anche avendo una relazione con ciascuno allora forse se dico la parola coach senza tirare in ballo ovviamente il coaching con la C maiuscola però è già molto simile a questo no? E quindi sicuramente questo tipo di capacità di accoglienza di accettazione hai detto benissimo tu anche delle difficoltà del partecipante perché quante difficoltà abbiamo visto nei trainer in queste settimane a saltare da uno zoom a un go to meeting a un teams a uno skype e questo link non va quella piattaforma non mi ricordo dove è il tasto eccetera ecco mettiamoci nei panel partecipante che stiamo sballottando da una piattaforma all'altra e lui ogni volta si ritrova no? in una situazione diversa quindi l'accoglienza il facilitare il benvenuto il benvenuto in aula si è sempre dato ovviamente alla mattina no? Ma quanto più importante diventa in questo momento verificare che sia a suo agio che non sia disturbato eccetera e poi credo tutta una serie di capacità legate proprio alla didattica che mettendo insieme gli strumenti e mettendo insieme questa necessità di gestire e creare questa comunità devono aiutare il trainer. Io la cosa che ho in mente e anche qui non vorrei banalizzare e offendere nessuno ma la formazione con lo strumento digitale può diventare un grandissimo show no? Ho sempre in mente Fiorello con la sua Edicola Fiore che riusciva a fare cose meravigliose seduta a un tavolino con un iPhone e un iPad ecco il trainer nell'era digitale ha tutte le conoscenze, ha le capacità, riesce a gestire la comunità se riesce a creare il momento live perché fin qui stiamo parlando molto di live Elena poi ci sono tutti gli strumenti, i tutorial, le app e quant'altro ma diciamo che il momento live è quello più interessante perché stiamo trasformando abbiamo registrato più video probabilmente di Robert De Niro siamo stati attori di noi stessi più di quanto abbiamo mai immaginato nella nostra vita quando abbiamo iniziato a occuparci di sviluppo del risorso umano quindi ci siamo sentiti molto, molto, insomma dire, molto, molto è stata una bella scoperta cinematografici no? a cercare lo scenario, il luogo perché poi eravamo anche tutti chiusi in casa quindi anche sempre tutti nello stesso, come dire era difficile trovare delle ambientazioni abbiamo visto dei video molto belli di colleghi che hanno fatto tutto dai balconi di casa piuttosto che, no? quindi ci sono state insomma anche belle anche invenzioni dal punto di vista proprio della regia, della scenografia sì, allora lui capito se il trainer dice devo andare in scena con un gigantesco show mi sono preparato tutti i pezzi i video fatti sul balcone eccetera e adesso li uso alla bisogna sapendo che il partecipante ha già fatto un bel pezzo dello studio quindi non hai neanche più l'ansia che impari che la macchina ha quattro ruote già il partecipante lo sa che ne ha quattro proviamo adesso a farlo giocare con questo concetto che la macchina ha quattro ruote com'è che questa idea diventa interessante per il tuo lavoro per il cliente perché poi io mi occupo di customer experience quindi ho sempre in mente il cliente e la sua soddisfazione quindi com'è che nel momento formativo posso aiutare chi ha contatto col cliente avendo lui fatto un'esperienza formativa di questo genere a riproporre il suo, chiamiamolo, sapere al cliente allora ecco che tutte le meccaniche non solo di gioco ma proprio di coinvolgimento utilizzando, io ripeto, il concetto del gigantesco show ma in tale che sia veramente divertente coinvolgente anche emotivamente non è semplice allora dice, vabbè, ho capito vuoi un super trainer come quando le ricerche del lavoro dicono vent'anni, laureato, quattro lingue con esperienza e che cavolo vale quello che ho detto prima occorre conoscere la propria popolazione sapere a che punto è ecco, come si introduce un partecipante a una vita in cui è stato condotto diciamo dalle email dell'abile segreteria condotta da Alice è stato condotto un po' per mano a presentarsi il giorno tal dei tali alla ora tal dei tali in un certo luogo fisico che è spesso in albergo oppure adesso abbiamo un training center Audi che avrà la polvere poverino ma insomma comunque che è a disposizione come si cambia questo mindset anche del partecipante perché comunque va introdotto cioè noi possiamo fare tutte le nostre belle riflessioni esattamente come nella customer experience c'è anche una customer experience chiaramente del partecipante a un'esperienza in cui gira nella training experience anche un po' in modo autonomo nel senso che in realtà non è un percorso a tappe come il Giro d'Italia citato prima ma sono un giorno vado al mare un giorno vado in montagna un po' in base a quello che mi serve non è anche il punto in cui mi trovo e in mezzo ho una punteggiatura più strutturata che sono incontro il docente incontro il mio coach incontro i miei colleghi ma di fatto diciamo il partecipante gironzola un po' come quando si va in vacanza in modo scanzonato e si gira per una città quindi di fatto è un territorio urbano nella quale ho diverse esperienze da fare ma le posso fare un po' come come ritengo più opportuno cioè come si porta il partecipante a quel a quel grado di autonomia nell'apprendimento perché questo è un aspetto che sconvolge completamente quella che era invece l'indirizzamento forse anche in coerenza con quella che veramente la customer experience del cliente che compra l'auto no? oggi stiamo insegnando ai venditori e ai loro capi che non c'è più un processo lineare ma c'è un processo circolare no? in cui il cliente in base al tempo all'esperienza che vuole compiere al momento di riflessione che è può vivere delle esperienze di tipo diverso anche questo anche il cliente va abituato a vivere non in un tubo no? in cui c'è solo un'entrata e un'uscita e magari uno svincolo solo per interrompere questo questo percorso ma forse il partecipante va anche un po' come dire portato a bordo no? proprio per renderlo cosciente per generare quella senso di responsabilità accountability di cui parlavamo prima hai messo tante cose sul piatto è tutto interessante provo a vedere di riprenderne alcune caso mai mi aiuti intanto partirei dal fatto che proprio perché il partecipante a questo punto si muove liberamente è fuori dal nostro controllo perché è a casa sua accende spegne entra esce eccetera ci possiamo finalmente liberare dall'ansia del portare a casa il risultato mi spiego mi spiego meglio se noi con tutto il rispetto dei trainer se noi pensiamo seriamente che riprendiamo il concetto della leadership di prima come idea ma varrebbe per qualunque tematica che noi possiamo insegnare la leadership perché una persona un manager viene due giorni in aula con noi e abbiamo la presunzione che dopo quei due giorni l'abbia capita sappia applicare i modelli e se ne va a casa e sa come gestire diciamo così i suoi collaboratori siamo dei folli dico sempre è come voler imparare il mandarino in due giorni non a caso apri e chiudo la parentesi chi fa corsi di lingue da secoli ci fa le piccole pilloline di quattro minuti da fare tutte le secoli e io ho fatto i corsi d'inglese così per anni ma non ho mai capito quanto invece così si impara la lingua mentre invece se ti devo insegnare come è fatta una macchina ti chiudi in una stanza per due giorni sono duro però ci sono arrivato e mi sono allora liberato finalmente dall'ansia del portare a casa il risultato formativo e quindi mi sono portato a casa l'ansia del controllo a questo punto non ti registro più se entri in aula che ora esci se fumi la sigaretta se bevi il caffè vai dove vuoi fiducia e responsabilità certo che siccome parto dal presupposto che tu vuoi imparare e io ti devo aiutare ecco che allora ancora una volta la tecnologia mi aiuta perché ti posso dare il segnale di a che punto sei col percorso che cosa ti manca fai un test che ti dice che cosa vai a ristudiare cioè il concetto della hero chiamata machine learning non so se il termine è giusto ma di una gigantesca macchina infernale che raccoglie tutte le informazioni di ciò che sto facendo nella piattaforma nell'LMS e mi restituisce delle indicazioni su come hai detto tu oggi è meglio andare al mare o è più utile andare a fare una passeggiata in montagna eh forse oggi è meglio che te ne vai due ore in montagna no? certo secondo me è un po' questo il concetto che dobbiamo cominciare a portare dentro ma ancora una volta torniamo al tema di prima i micro pezzettini che compongono questo mosaico devono comunque avere una loro logica e bisogna anche sapere hai detto bene tu che il percorso non è affatto lineare e questo complica molto però dall'altro canto è la tecnologia che ci aiuta come si fa a portare dentro il partecipante in tutto questo? wow sicuramente tempo e pazienza quello che noi abbiamo provato sempre a fare è dirci ok ma noi tutti siamo dei consumatori degli acquirenti di qualche cosa che cos'è che cattura di più il nostro interesse per quel prodotto piuttosto che un altro a parità di prodotto beh ci cattura di più il fatto che ci venga presentato in un certo modo raccontato in un certo modo eccetera ecco da un punto di vista di esperienza formativa che cos'è che catturerebbe di più la tua attenzione verso un corso rispetto a un altro e questo è un lunghissimo percorso che ancora una volta prevede una strategia o una pianificazione se ti ricordi noi quando abbiamo cominciato a lavorare con la nostra piattaforma una delle prime cose che abbiamo voluto è che il corso venisse presentato non come solito perché c'è contenuto obiettivi e metodologie ma il trailer del corso com'è dire mo mi siedo al cinema no? e questo lo facciamo da 4-5 anni il trailer in un trailer motiva i partecipanti a partecipare al suo corso e allora non sei più obbligato ad andarci ma te lo scegli se poi oltre a questo qualche settimana prima del corso io ti faccio per esempio una diretta Instagram nella quale comincio a darti già le prime pillole noi soprattutto col prodotto su questo giochiamo molto no? prima di vedere la macchina ti faccio vedere dal buco della serratura i cerchi in lega no? detto così anche un po' sexy però io ho un po' anni 70 diciamo vabbè però io vengo però è interessante allora il partecipante te lo porti dietro io credo con questo con l'ingaggio con la motivazione abbiamo fatto i nostri bravi esperimenti di gamification in tempi non sospetti per creare quella famosa community ma anche il cominciare a imparare giocando mettendo in palio qualche cosa per noi è la visita in fabbrica che è sempre no? il sogno proibito di tutti andare a vedere dove si producono le Audi bene allora il più bravi andranno a vederle quindi è un lunghissimo percorso Elena quello di convincere il partecipante sempre sapendo che poi ci sono gli entusiasti ci sono i refrattari e ci sono quelli nella via di mezzo no? e tu te la devi giocare rinforzando l'entusiasmo degli entusiasti provando a spostare quelli della via di mezzo e sui refrattari è chiaro che fai quello che puoi no? però ancora una volta mentre prima non avevi tante cartucce c'era un corso d'aula venivi e punto oggi con la tecnologia puoi quasi inseguire il tuo partecipante di fatto è esattamente quello che il marketing fa con i clienti ecco ci arriva una domanda rispondiamo subito perché è proprio centrata in pieno chiaramente su quello che stiamo dicendo come spesso il social consente no? Paola ci chiede ma come cambia il partecipante ha un nuovo ruolo cioè quale nuovo ruolo ha in questa in questa attività di formazione perché poi abbiamo parlato tanto del docente ma non abbiamo abbiamo detto come fare anche diciamo noi a facilitare la partecipazione ma il partecipante ha un nuovo ruolo? Ma io credo di sì ed è facile rispondere sì il problema è dire come sicuramente oggi il partecipante si o si riappropria della sua partecipazione alle attività formative o non porterà più a casa nulla in termini di contenuto perché fatto 100 un percorso formativo se il 70-80% te lo devi studiare a casa da solo o tu te lo studi o non te lo studi guarda caso è la stessa dinamica di quando si andava a scuola all'università eccetera quindi è chiaro che oggi il partecipante quel tema di responsabilità che dicevo prima racchiude tutto deve imparare ma su questo noi lo possiamo aiutare ecco perché il trainer è un facilitatore come usare gli strumenti darsi anche degli obiettivi di apprendimento uso ancora il tema delle lingue imparare un nuovo vocabolo ogni volta che faccio una unit è qualcosa avere a disposizione tutta una serie di batterie di test per esempio per poterti autovalutare devi conoscere questa cosa hai fatto tutta una serie di attività da solo sei al 70% molto bene ti manca un 30 ti suggerisco anche che cosa fare allora è chiaro che deve pian pianino il partecipante capire che ha un'offerta formativa come mai nessuno ha avuto prima e la può sfruttare secondo quella che è la sua curiosità la sua volontà la sua la sua decisione di essere sempre un po' più bravo di come è oggi tutto facile da dirsi molto difficile a farsi ecco perché probabilmente e forse qui è un pensiero che comincio ad avere quella specie di community manager come qualcuno scriveva prima ecco perché è importante che conosca personalmente il partecipante perché per esempio in tutta quella customer journey experience come l'abbiamo chiamata anche un contatto uno a uno tra il trainer e il partecipante è una sorta di pagella di metà anno ma non per fare le pucci ma per capire e stimolare no? e quindi la responsabilità è tutto in capo al partecipante deve darsi tempo e modo per imparare ha le occasioni per verificare quello che ha imparato e condividerlo con altri con il trainer se lo accompagniamo anche trainer con un supporto da tutor o da coach beh cominciamo insomma a creare veramente una macchina piuttosto interessante però ha ragione chi ha fatto la domanda Paola mi sembra il partecipante deve completamente cambiare il suo approccio quello che deve preoccupare i formatori è come favorire questo cambiamento certo Federica ci chiede se può avere diciamo in ipotesi immaginabile utile che si faccia un self assessment del partecipante per capire come impara c'è un problema diciamo di conoscenza di imparare essere consapevoli delle modalità che ci sono più favorevoli per apprendere questo accedere a molto l'apprendimento per esempio nel mio caso è fare le cose cioè io mi ricordo più le cose che ho fatto che quelle che mi vengono raccontate o quelle che leggo se poi leggo e provo allora mi ricordo anche quello che ho letto però magari la pura narrazione mi si fissa poco i miei colleghi mi dicono perché non ascolto però allora hanno già fatto la diagnosi è possibile ma diciamo che io ritengo che l'aspetto del conoscersi come si apprende è comunque un aspetto molto molto importante no? Sì io condivido l'osservazione farsi un self assessment è assolutamente una buona idea lo potevamo fare anche con le aule fisiche ma era molto più complesso e invece la tecnologia ci permette di farlo ad personam quindi quel concetto di personalizzazione che dicevo prima ma allora se seguo questo ragionamento e lo stremizo dico beh ma allora oggi col digitale posso anche creare livelli di contenuti diversi a seconda della preparazione del partecipante che non è fare le aule dei bravi e dei non bravi ma è veramente dare a ciascuno la possibilità di imparare dal livello a cui è per portarlo ad un livello superiore quante volte ci capitava in aula di dieci persone i tre che ne sapevano abbastanza e che partecipavano e erano attivi e i due che poverini facevano fatica perché erano stati mandati a fare un corso ma non avevano le basi ecco con la digitalizzazione e col fatto che studi da solo prima eccetera eccetera e che ti posso aiutare a misurarti e quindi la misurazione io la vedo in una situazione positiva non giudicativa ti favorisco molto certo diciamo che la domanda era molto orientata sul tema del profilo di apprendimento proprio dei diciamo modello di colb per intenderci da dove quali sono diciamo le porte di ingresso più al nostro cervello più larghe c'è sicuramente alcune porte sono larghe per tutti il gioco la sperimentazione il fatto di prendersi delle pause quindi magari di avere anche una punteggiatura un po' più lieve rispetto a due giorni in cui sei in scatolato come un io ho fatto alcuni CLT a Monaco e lì vengono alle 6 del mattino alle 2 di notte cioè è una prova di forza psicofisica più che una vera attività di training no? però quindi forse questa effettivamente è un elemento da introdurre nella perché forse con l'aula fisica effettivamente questo tempo del partecipante di toccare con mano quelli che sono gli elementi di apprendimento alcuni dei canali di apprendimento più favorevoli e in tutto sembrato più facile anche più facile per il docente capire quando il partecipante è più a bordo in certo tipo di attività che lo coinvolgono maggiormente no? Tant'è che poi prima Serena ci chiedeva via chat ci chiedeva come lavorare in alternanza fra diciamo percorso in presenza e percorso a distanza che in qualche misura è collegato anche con l'aspetto delle modalità di apprendimento individuali che possono essere molto differenti e quindi certamente tenere su come dire il livello di stimolo in modo uniforme su tutti i canali di apprendimento è comunque un aspetto importante quindi questo sicuramente è un tema molto molto rilevante soprattutto a livello di progettazione in cui si deve tenere conto però dall'altra parte volendo un partecipante attivo e presente molto consapevole partecipante non nel senso che partecipo ma nel senso che è parte in questo senso certamente questo l'aspetto della della conoscenza di sé dei propri profili di apprendimento è molto è molto importante io volevo farti una domanda che è un po' un passaggio anche perché diciamo siamo qua non dico alla fine ma insomma abbiamo ancora qualche minuto per fare ancora un ulteriore passaggio chiaramente abbiamo illustrato una macchina che può spaventare nel senso che Audi ha una dimensione ha delle risorse nazionali e internazionali che chiaramente non sempre sono accessibili immaginando diciamo quella che può essere la differenza fra un'organizzazione ed un'altra sia dal punto di vista dimensionale che di maturità dei sistemi informativi e di quant'altro ma volevo capire diciamo se io dovessi partire domani e tu mi dovessi fare dare un consiglio e partire cercando di avere un sistema più allineato a quelle che sono le opportunità del digitale quindi non voglio dire più moderno ma forse voglio dire più contemporaneo nel senso che non è questione di svecchiare ma è questione di sfruttare le opportunità del momento e forse anche del futuro dovessi dare un consiglio a qualcuno che deve partire che non ha nulla di tutto ciò cioè non dispone dell'audibox non ha sette piattaforme diverse a seconda del tipo di attività forse non può non ha mai utilizzato non si è mai creato un'app per fare le battaglie che abbiamo fatto sulla storia e valori di Audi perché ho partecipato anch'io dove facevo 4-5 punti all'anno c'è della gente che faceva 6.000 e allora volevo capire se tu avevi qualche consiglio cosa deve fare uno per partire da zero da dove partiresti se noi fossimo nel 2014 trasposto a oggi dico 2014 perché Nicola se ne occupa di formazione dal 2014 lo dicevo per chi ci ascolta che magari non lo sa consiglio è una parola grossa nel senso che chi c'è che è bravo però io mi sentirei di dire questo Caffa intanto che si può fare funziona e tu dici eh vabbè lo dici tu però siccome sono partito che non avevo niente di tutto quello che hai detto ed è stato un costruirlo pezzo su pezzo se mi giro e guardo indietro dico si può fare si può fare e io credo innanzitutto con due premesse un bilancio di ciò che ho oggi anche in termini di popolazione non solo di strumenti di contenuti ma anche di come è la mia popolazione cosa che noi facemmo è una strategia molto chiara di dove voglio arrivare partendo da questi due presupposti poi comincio quella che ho detto prima la politica dei piccoli passi perché se vai col digitale io credo che mentre col presenziale era logico è ovvio che tutti venissero volente o nolente tutti venivano per forza col digitale invece è importante partire bene ma partire tutti e allora posso anche fare piccole cose ho detto prima posso anche avere la piccola calci in culo della fera di quartiere e va benissimo quella perché chi non è mai salito sulla giostra la prima volta vede le luci i cavallini la coda che scende che devi prendere è bellissima ma intanto chi ha in mente la strategia sa che lo vorrà portare a Gardaland nella più grande montagna russa d'Italia ammesso che sia a Gardaland non lo so e allora la politica dei piccoli passi quindi so che so chi ho so che cos'ho gli do il primo chiamiamolo giochino ma per quella popolazione può essere già l'assoluto e poi nel frattempo preparo lo step più avanzato più avanzato più avanzato questo è quello che noi abbiamo fatto ci siamo ritrovati a distanza di 6-7 anni ad avere tutto quello che abbiamo raccontato oggi ma la forza è stata quella di avere la pazienza di portarci dietro tutti con i piccoli passi e tutto gioca gioca a favore oggi devo dire che anche da un punto di vista tecnologico ci sono cose che 6-7 anni fa non c'erano e quindi questo ecco perché mi sento di dire si può fare analizzare quello che c'è impostare una strategia piccoli passi e poi una cura attenta a tutto quello che succede perché ogni vibrazione ogni sfumatura ogni feedback è fondamentale per capire se ti stai muovendo nella direzione giusta oppure no e quindi un grandissimo feeling con i partecipanti da un lato e sicuramente con tutti i formatori dall'altro perché a quel punto diventa una miscela veramente forte che credo che è un po' la fortuna che abbiamo avuto noi in questi anni certo e pensando al futuro tu siccome non stai mai fermo perché io ti conosco tu sei la nostra tu sei la nostra frusta come dire quotidiana no e ogni cosa ancora non fatta ma già diciamo che ha una forma definitiva è già superata da una cosa che non è ancora fatta ma che potrebbe essere eccetera quindi immagino diciamo che ci hai già un po' convocati a pensare al futuro no ma se tu devi immaginare che cosa succederà per quanto riguarda Audi evidentemente quindi adesso qui svediamo un segreto industriale quindi il tuo capo l'ingegnere vava là probabilmente ti licenzierà e vabbè se lo vedremo qualcuno che ti sostiene ti dà una mano no non credo perché penso che non possa fare a meno di te soprattutto il tuo network di dealer ma pensando al futuro oltre a continuare a vincere ovviamente il premio sul digital training che ormai ti aggiudichi sistematicamente con grande diciamo probabilmente nervosismo dei tuoi colleghi e degli altri brand no oltre a questo che cosa che cosa immagini per Audi nel futuro cioè che cosa succederà nella formazione nei non dico nei prossimi anni perché non lo sa nessuno ma diciamo a che cosa stai stai lavorando come dire per andare oltre il multi channel o per arricchire il multi channel in training experience allora diciamo questo che qualche idea c'è ma è veramente in divenire sarebbe prematuro raccontarla sicuramente consolidare il multi channel è l'idea fondamentale e poi quando l'anno prossimo si comincerà a poter ritornare a fare l'attività d'aula mantenere la solidità di tutto l'impianto digitale perché poi magari molti diranno ah boh si può tornare in aula perché devo fare la formazione da casa invece io credo che finalmente dobbiamo tenere insieme i due pezzi e quindi questo è il focus una cosa che è un mio vecchio pallino di battaglia il cavallo di battaglia che mi piacerebbe veramente portare dentro nella formazione per aumentare di un'unità i pezzi del puzzle questo lo posso dire perché tanto si sa e voglio dire è una cosa che in molti stanno provando a fare è quella di utilizzare l'intelligenza artificiale dentro l'attività formativa certo io vado in aula imparo delle cose faccio dei role play delle simulazioni mi aiutano i miei colleghi il trainer eccetera eccetera ma prima o poi viene il momento in cui devo andare davanti al cliente e vedere di mettere in pratica tutto e per quanto mi sia preparato la realtà è diversa la realtà sarà sempre diversa ovviamente ma se io posso mettere a disposizione un'intelligenza artificiale di un certo tipo come stiamo provando a fare con un paio di fornitori è chiaro che quel momento di verifica è una pre-verifica prima della live e quindi veramente io credo che un altro tassello della formazione dei prossimi anni mantenendo ovviamente l'impianto del multi-channel possa essere quello di misurarsi con uno sparring partner che è molto bravo molto preparato sembra veramente un grandissimo cliente di quelli giusti e io provo a misurarmi con lui riattivando anche il circolo formativo se serve a quel punto bene allora ringraziando Nicola sperando di non essere sostituita da un chatbot nel giro di qualche di qualche mese ma almeno di qualche anno così mi avvicino diciamo alla meritata la meritata pensione e ringrazio moltissimo Nicola ringrazio tutti per averci seguito e spero che i contenuti che Nicola vi ha messo a disposizione e un po' di stimolo e domande possano essere stati utili per riflettere sull'evoluzione della formazione vostra evidentemente magari ispirandovi o lavorando in parallelo a quanto a quanto Nicola ci ha messo a disposizione grazie a tutti arrivederci ciao Nicola grazie comunque io sono in una concessoria di trattori al momento quindi diciamo che ho cambiato mezzo ma non ma non premium ship ottimo saluti a tutti grazie grazie ancora ciao arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti